Una notizia bomba ha scosso Milano questa sera, lasciando i tifosi milanisti in uno stato di euforia. Siamo tornati con un altro aggiornamento bomba sul futuro di uno dei giocatori più importanti del club. Prima di addentrarci in questo elettrizzante argomento, lo sapete già, vero? Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Quello che abbiamo oggi susciterà le emozioni di tutti i tifosi del Milan. Qualcosa di grosso si sta pianificando dietro le quinte e ciò che verrà potrebbe cambiare drasticamente il futuro. Del centrocampo rosso-nero. Tijani Reinders, che ha un contratto con il Milan fino al 2028, potrebbe essere sul punto di firmare un rinnovo anticipato grazie al grande successo che ha riscosso dal suo arrivo. Al club la scorsa estate. Dopo il suo trasferimento dall'AZ Alkmar per circa 20 milioni di euro. Reinders è diventato un elemento chiave del centrocampo rosso-nero. La sua ultima prestazione, con i due gol contro il club Brucce. Dove è stato nominato asterisco Man of the Match asterisco, ha solo rafforzato il suo valore. Ora, con l'interesse di giganti come Barcellona e Manchester City, il Milan sta agendo in fretta per assicurarsi la sua permanenza nel club. Secondo il Corriere dello Sport, il City ha la ricerca di un sostituto di Rodri e il Barcellona. Già interessato prima del trasferimento al Milan, stanno monitorando da vicino l'olandese. Per evitare una possibile partenza. I rossoneri stanno preparando un rinnovo che preveda un significativo aumento di stipendio. Incrementando il suo attuale stipendio di 1,7 milioni di euro a stagione. Considerato basso per l'impatto che ha sulla squadra. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Reinders merita questo rinnovo e questo aumento di stipendio per rimanere al Milan a lungo termine? Il club ha fatto bene ad agire in fretta per scongiurare l'interesse di Barcellona e Manchester City? Lasciate un commento qui sotto. Condividete il video con altri tifosi del Milan e restate sintonizzati sul canale per ulteriori aggiornamenti sul futuro di Reinders e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.